signori rabbit sete di sangue fin del 1977 di kronenberg kronenberg che trovate in questo cofanetto che continua a ripetere fa schifo il cofanetto i film vanno da tutte le parti cioè vabbè rabbit passa come come sempre come tutti i film di kroner passa come horror ma non è un thriller si vede che purtroppo invecchiata come sarebbe un film da rifare e anche da ridere sistemare da riedi maestrizzare comunque un sette e mezzo secondo me e basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete la cittura ciao ciao